Del Grosso. Ci siamo? Sembra di sì. No no, Cominardi. Cominardi non riesce a votare. Del Grosso. Cominardi provi a votare. Ecco, Del Grosso. Del Grosso. Vediamo. Arriva il tecnico. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 168 favorevoli, 319 contrari. La Camera respinge. Tutti gli altri ordini del giorno sono favorevoli, quindi passiamo al voto finale. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Lello Di Gioia. Grazie, signor Presidente. Voteremo a favore di questo provvedimento perché riteniamo che dopo 20 anni che i Comuni hanno dovuto sostenere con grande difficoltà interventi per abbassare il debito pubblico del nostro Paese e negli ultimi cinque anni i Comuni sono intervenuti per circa 13 miliardi di euro. Questo provvedimento non soltanto va nella direzione di semplificare, ma va anche nella direzione di sbloccare quello che è il fondo pluriennale vincolato. Questo è certamente un dato importante perché rimette i Comuni nelle condizioni di poter rinvestire.